car tablet 8.8 da incasso installato su audio a4 con digitale terrestre in funzione in questo momento dimmi che il primo ricordo di me è che il buio da qui andiamo a cercare il nostro video prendiamo un brano questo è un monitor 8.8 Android da incasso su Audi A4 stessa cosa si può fare su altre Audi senza problemi in più possiamo avere la soluzione del cartablet 10.25 esterno questo ripeto è da incasso come l'originale ma è uno spettacolo quasi 9 pollici adesso torniamo sulla modalità normale rientriamo sul menu andiamo a pigiare questo tasto e abbiamo la schermata originale della vettura schermata dashboard anche qua sull'Audio A4 dove ci tengo a puntualizzare alcune funzioni tipo luce lunghe luce corte, le segnalazioni tutte i contagini freno a mano luce spente se la spegniamo accese e così via sportelli e tutto il resto ecco siamo qua alla consegna della vettura l'Audio A4 signor Adamo è rimasto contento di questo lavoro? un ottimo lavoro un'ottima professionalità grandiosa grazie arrivederci buon rientro arrivederci